Ciao a tutti, io sono Concetta, vi presento la mia bambola Olga e sono emozionata perché vi sto per far vedere come si fa una treccia qua questo è il mio primo video, vi farò vedere una bellissima acconciatura ed è molto bella la acconciatura che vi sto per far vedere allora, iniziamo fase 1, si prende un pettine, si pettinano i capelli che io ho già pettinati prima fase 2, fare una bella coda, fare una coda, lasciare un po' di capelli per fare la traccia prendere una mulettina per separare i capelli dai capelli questa è la mia sorellina che si sente in sottofondo si fa una coda poi si coda un giro, uno la mia sorellina ancora si sente in sottofondo bene, la coda è finita fase 3 fase 3 fase 3 fase 3 fase 3 fase 3 se c'avete una retina la prendete si prende la bambola ovviamente, si arrotolano i capelli si fa un tubè un tubè si fa un tubè un tubè poi si mettono le forcine una si prende la retina si mette nello scendone così bella così il risultato è questo si prendono altre forcine si mettono si prendono un'altra forcina qua si prende la sciocca di capelli rimasta da prima si fa una piccola treccia si fa una piccola treccia così si fa una codina si arrotola così si mette qua così di lato di lato si si poi si mette viene così si si mette una forcina adesso si prendono dei farmagliotti come questi e si mettono in testa qui si e vi saluto dopodichè l'ultima fase si scioglie e spero allora si fa una traccia una piccola traccina questa è l'ultima cosa si fa una piccola traccina grazie 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 e sono troppo contenta ciao 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 a presto ciao ciao